Prosegue la marcia di avvicinamento alla riapertura delle scuole. Ogni aspetto viene preso in considerazione dal numero di docenti e personale ATA ai test sierologici, 100.000 quelli necessari per far ripartire le scuole in sicurezza. Dal 20 agosto alla 14 settembre, giorno della prima campanella, tutti i presidi, insegnanti, custodi, tecnici di laboratorio e amministrativi che lavorano all'interno degli istituti scolastici della Toscana potranno sottoporsi allo screening messo a disposizione dalla regione e voluto dal governatore Rossi. Una sorta di maxi controllo gratuito che avverrà su base volontaria ma che punterà a coinvolgere il maggior numero possibile di persone. I test verranno effettuati nei distretti sanitari indicati oppure attraverso i drive-thru, vale a dire gli esami eseguiti direttamente in auto con il paziente che non deve far altro che abbassare il finestrino. Coloro che risulteranno positivi saranno poi sottoposti al tampone per capire se la malattia è in corso o meno. Fino ad oggi soltanto il 10% di chi è risultato positivo agli anticorpi era poi effettivamente contagiato, come racconta Repubblica. Gli altri o avevano contratto il virus precedentemente fino a negativizzarsi oppure erano incappati in un errore dell'esame. Il tutto mentre prosegue la corsa contro il tempo anche ad adattare le aule, a creare spazi per garantire il metro di distanza da bocca a bocca tra ogni studente. Solo a Firenze sono previsti centinaia di interventi di edilizia leggera da realizzare contemporaneamente in più di 60 plessi dei 24 istituti comprensivi che si trovano sul territorio.